The Queen ha inviato un messaggio di cordoglio al primo ministro di Haiti a seguito del terremoto che è costato la vita a 1419 persone. Il terremoto di magnitudo 7.2 che si è verificato sabato 14 agosto è stato a soli 78 miglia a ovest della capitale Porto Prince. Il bilancio delle vittime è salito a 1419 mentre i soccorritori continuano a cercare i sopravvissuti tra le macerie. Almeno 5700 persone sono rimaste ferite, con migliaia di sfollati dalle loro case distrutte. La regina ha scritto lunedì al primo ministro di Haiti, Ariel Henry, inviando un messaggio di cordoglio. Punto. Ha scritto. Sono profondamente rattristato dalla tragica perdita di vite umane e dalla distruzione causata dal terremoto ad Haiti. I miei pensieri e le mie preghiere sono con coloro che hanno perso la vita. I propri cari e le case. Così come i servizi di emergenza che lavorano nello sforzo di recupero. Elisabeth R., sua maestà si trova attualmente a Balmoral durante l'estate e dovrebbe tornare al castello di Windsor in ottobre. La regina è stata raggiunta al castello di Balmoral durante l'estate dal principe di Galles e dalla duchessa di Cornovaglia, dal duca di York e da Sarah Ferguson. Ora si teme che la pioggia della Tropical Depression Grace, che dovrebbe colpire Haiti lunedì e martedì, possa causare frane nelle aree più colpite. Il signore Henry ha dichiarato lo stato di emergenza dopo il terremoto e ha mobilitato risorse per aiutare le vittime. Gli ospedali in tutto il paese sono stati spinti al limite e le strade che trasportano rifornimenti critici rimangono bloccate. Il signore Henry ha dichiarato. Quando si tratta di esigenze mediche, questa è la nostra più grande urgenza. Abbiamo iniziato a inviare farmaci e personale medico alle strutture colpite. Per le persone che necessitano di cure speciali urgenti, ne abbiamo evacuate un certo numero e ne evacueremo altre oggi e domani. Non è la prima volta che Haiti viene devastata da un terremoto. Nel 2010, quasi un quarto di milione di vite sono state perse e 300.000 persone sono rimaste ferite in un enorme terremoto di magnitudo 7.0. Il terremoto del 2010 ha provocato circa 1,5 milioni di persone che vivono nei campi sfollati.